Anche oggi le barzellette di Danilo Allora, moglie e marito a pranzo con un ragazzino di otto anni La madre gli ha fatto il minestrone e il suo ragazzino non lo vuole mangiare Ti ho detto mangia, metti in bocca Prendi il cucchiaio, gli ha filo un cucchiaio di minestrone in bocca Ragazzino lo mette così e sputa nel piatto Come sputa nel piatto la madre se lo mangiare Te l'ho detto cento volte, quando ce l'ha in bocca se manna giù non se sputa E il marito stava per parlare, lei si gira, tu stai zitto